Ciao, sono Federica, siamo allo stand della Ortovox presso la Fiera del Lispo 2017 e sono qui per presentarvi una parte della nuova collezione della linea Ortovox, quella incentrata soprattutto su un nuovo concetto, su una nuova filosofia che è quella della Naked the Sheep, la pecora nuda in pratica. Questo cosa significa? Che sono capi che hanno un unico grande obiettivo, quello di dare massimo comfort, massima protezione e soprattutto un peso ridotto, perché anche quello adesso conta molto. I capi che fanno parte di questa collezione sono innanzitutto la giacca Ortler, bellissima, una giacca nuova nata soprattutto per lo sci alpinismo e per un'attività molto intensa, dermizax all'esterno e lana nei punti cruciali. A fianco di questa troviamo la Leone Jacket, bellissima anche questa, che va a posizionarsi sotto, quindi dermizax all'esterno e swissful, quindi giacca imbottita molto calda all'interno ma estremamente leggera ed estremamente performante. Ed infine, come ultimo strato, la Pizzaroseg, anche questa swissful davanti e invece il nostro mitico fleece sulle maniche e nella parte dietro, nella versione più leggera, in modo comunque da garantire una massima traspirabilità ai capi. L'insieme di questi tre articoli nuovi ci danno praticamente la massima protezione in montagna ed insieme anche un ottimo fit e un ottimo comfort.